Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e bentornati con il classico appuntamento settimanale per quanto riguarda le sfide del post battaglia di Fortnite. In questo video andremo a vedere la posizione della stella segreta della terza settimana. Per prenderla come sempre, oltre ad aver portato a termine ed aver completato tutte le sfide, bisognerà aver preso la stella della settimana numero 1 e lo stand up della seconda settimana. Se non l'avete fatto, questa stella non mi sponerà. Quindi ragazzi, in descrizione lascio il link di questi due video, oltre al link delle sfide delle scorse settimane. Quindi se volete recuperare qualche cosa, andate e cliccate sul relativo link. Quindi come detto, una volta prese la stella e lo stand up della seconda settimana, potrete prendere anche questa. Però prima di andare a vedere dove trovare questa stella, vi invito a passare su questa pagina Facebook ad iscrivervi. È stato indetto un torneo a premi, quindi ragazzi partecipate in tanti, mi raccomando. Quindi, una volta fatto ciò, andiamo a vedere dove trovare questa stella. Da come potete vedere dalla schermata di caricamento, la stella di questa settimana si troverà sul tetto di una casetta di legno. Dove sarà quindi, ragazzi, questa casetta di legno? Molti penseranno a rifugio ritirato, ma non è così. La stella si trova vicino al comignone di questa casetta, quella un pochino più a destra, dentro un bosco oblaterante, e quella vicino alla costa. Quindi una volta atterrati lì, dovete atterrare su questo angolo di tetto e prendere la stella. Come sempre, ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando, lasciate tanti like, lasciate un commento, fatemi sapere se parteciperete o no al torneo, condividete il video e iscrivetevi al canale per non perdere tanti altri giochi e tante altre sfide. E come sempre, vi ringrazio la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!